Rischia di scomparire l'Istituto Arturo Toscanini di Ribera, una delle realtà più prestigiose e fulcro di cultura per i tanti giovani allievi provenienti da tutta la regione siciliana. Un rischio scaturito dall'abolizione delle province, verso le quali il presidente della regione Rosalio Crocetta ha dimezzato i finanziamenti, una catena così di concause. A seguito di questo provvedimento, la provincia di Agrigento, sebbene avesse stipulato un contratto ventennale con il Toscanini di Ribera, ha sospeso gli stipendi di tutti i docenti, compresi quelli di ruolo, a decorrere da giugno senza però una data di fine sospensione, e il tutto da un giorno all'altro, senza dare alcun preavviso e non solo, ma in tutto questo non c'è stata una comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti. Tuonano così gli studenti del Toscanini di Ribera, che però non stanno con le mani in mano. Infatti è stata indetta per sabato 15 giugno un'assemblea plenaria per discutere una serie di punte all'ordine del giorno, tra cui la sospensione dei tagli dei finanziamenti da parte della provincia per effetto della spending review, oltre che una petizione di firme proprio per cercare di contrastare lo spettro della chiusura. In una nota hanno scritto quella che è lo stato attuale della situazione. Verrà nominato un ispettore tecnico e a seguito di questa azione l'istituto aprirà un contenzioso con la provincia. Ma una domanda chiara e dal pesante interrogativo affligge insegnanti e studenti dell'istituto musicale. Da questo momento in poi, qual è il futuro dell'istituto? Il Toscanini, scrivono i giovani della scuola, in questi anni ha portato a casa numerosi risultati di elevata caratura. Non per ultima la nostra vittoria in Rai. Così facendo verrà a mancare un'eccellenza del territorio, oltre che tanta gente finirebbe per strada ed è vergognoso, perché parliamo di professionisti. E a proposito di tagli ed anche possibili soluzioni, il deputato nazionale del PD, Maria Iacono, ha presentato una proposta di legge che prevedrebbe il trasferimento delle competenze dello Stato agli ex istituti musicali parificati. Attualmente in Italia, sottolinea la Iacono, vi sono 20 istituti musicali pareggiati che, per la mancanza di una norma specifica, non possono essere trasformati in enti statali, tre dei quali in Sicilia, tra cui l'istituto musicale Toscanini di Ribera, a cui sono stati tagliati appunto i fondi. Da qui la proposta della deputato, Maria Iacono, di tutelare il patrimonio degli istituti musicali.